Però mi sento di dirvi in tutta serenità che noi non siamo rappresentati nel Consiglio Comunale, quindi ci facciamo carico di tutti i problemi che sono emersi questa sera e sicuramente andremo personalmente dagli assessori, ma non siamo noi che purtroppo decidiamo queste cose, ci tengo a dirlo perché sarebbe sbagliato creare degli attesi che poi noi non siamo in grado di soddisfare, giusto?